Arte e moda, un binomio inscindibile e vincente, è quanto ha dimostrato la nuova edizione di World of Fashion 2013. L'evento, alla sondicesima edizione e inserito nel calendario dell'alta moda romana, ha attirato l'attenzione di ben 600 persone accorse nella spettacolare location del St. Regis Grand Hotel. Successi e consensi per lo stilista Ivan Donev, portavoce con la sua collezione del dialogo tra culture diverse. In passerella, le creazioni di Donev hanno preso vita sui corpi delle incantevoli Linda Pavlova, Miss Cinema Europa, e Roberta Scardola, reduce del telefilm di successo di Canale 5 di Cesaroni e attualmente presentatrice del concorso The Persever Cuffer, il reality che vede protagonista la città di Napoli. Il World of Fashion 2013 premia anche l'arte, che si pone l'obiettivo ambizioso di muovere l'universo insito nel cuore e nella potenzialità umana. L'arte che diventa viaggio di emozioni e di passioni attraverso scenografie e dipinti su tela. Premiato con il World of Fashion 2013 per l'arte, il maestro Silvio Formichetti, che per l'evento ha realizzato una gigantesca tela in cui ha dato libero sfogo all'universo che vive dentro e fuori da sé. Per la passerella Formichetti non è stato meno glamour. Paraventi nero e oro che guidano le splendide modelle fino a un comò invaso totalmente da colori, gesti e anima. A premiare Formichetti Gaia Maschi Barezzi Verdi, pronipoti di Giuseppe Verdi e l'onorevole Alberto Michelini, presidente di Fabule in Art. Silvio Formichetti, icona dell'informale europeo, è oggi protagonista indiscusso dell'arte nazionale.